L'inaugurazione dell'Atalanta Store, il secondo Atalanta Store promosso, proposto, voluto fortemente dalla società, voluto dal presidente Antonio Percassi che naturalmente questa sera non poteva mancare. Grazie a tutti. Questo lo vogliamo rendere anche internazionale, sia qui che provarlo al centro, in una dimensione forse anche più grande. Il prodotto sta migliorando ogni mese, la proposta diventerà sempre più importante e significativa, soprattutto per rendere sempre onore a questo grande brand che è il nome della nostra grande Atalanta. Quindi faccio i complimenti a chi ha lavorato sullo store, adesso siamo nelle vostre mani, qui dobbiamo incassare, fateci pubblicità perché hanno bisogno del grano vero. Ringrazio di cuore la presenza di Glenn che è fantastico, gli ha proposto, quando lui vuole, come vuole, perché decide di stare e fermarsi un po' anche per sempre a Bergamo, la presidenza a sua completa disposizione. Presidente, è bella cosa questa, va a iniziare a pensarsi veramente adesso. No, ovviamente sono molto orgoglioso, contentissimo di essere qua oggi e poi veramente questo store è bello perché le vedo tutte adesso indietro, soprattutto in Inghilterra dove sono tutti i weekend. e lì vendono tantissimo e se riescono a vendere più o meno come loro diventa un buon affare. Comunque, diciamo, fra di voi ci sono sempre ormai, l'altro giorno stavo pensando ai 30 anni che ho vissuto qua a Bergamo e vi dirò anche che non andrò mai via. Vado a Bergamo e vi dirò anche i weekend, parola che non si tratta di un buon affare. Grazie. Prima del taglio, ovviamente, a tutti, grande e forza Talanta! Allora ci siamo, ecco il taglio ufficiale del nastro. Federica Percassi, la nostra madrina d'eccezione che ci porta sempre molto bene. E quindi dichiariamo ufficialmente aperto l'Atalanta Store di Oreo Center. Grazie a tutti e buoni acquisti!